Allora, innanzitutto un saluto e un ringraziamento a tutti voi che siete presenti questa mattina. Per le ragioni meteorologiche che abbiamo visto, la cosa non si è rivelata così semplice, per cui grazie doppiamente di essere arrivati e di essere arrivati puntuali. E poi vorrei salutare e ringraziare, visto che stiamo celebrando anche un decennio, dell'attività dell'Associazione Asimmetrie, i nostri soci e tutta la comunità che si raccoglie attorno ad Asimmetrie, senza la quale ovviamente non saremmo arrivati a un'attività ormai più che decennale. E poi ovviamente un saluto ai relatori, ai nostri ospiti che hanno accettato il nostro invito per questa giornata di lavori. Grazie davvero per continuare ad alimentare questo dibattito. Io mi sono riservato solo due minuti per provare a riflettere su questi dieci anni e sul fatto che ci siamo riuniti per fare il punto della situazione e vedere un po' qual è la direzione di fronte a noi. E nell'immaginare che cosa dire, semplicemente dirvi che cosa sono stati e cosa hanno rappresentato, soprattutto cosa mi hanno trasmesso questi dieci anni di partecipazione all'Associazione, in particolare al dibattito che questa associazione ha alimentato. La prima cosa che vi volevo segnalare è questa, che io ho notato lo straordinario successo che ha avuto nel corso del tempo la chiave di lettura che è stata scelta anche per dare il nome all'Associazione, le Asimmetrie. Ma dieci anni fa sostanzialmente nessuno parlava di un assetto asimmetrico con riferimento all'Unione Europea, ma in generale come chiave di lettura. Io oggi questo lo trovo scritto in posti impensabili, in luoghi impensabili, riviste, pensatori, dibattiti, molto lontani da noi. Ovviamente questo avviene senza che a questa associazione e al dibattito che ha alimentato il blog di Alberto venga dato alcun riconoscimento. Ovviamente questo dipende dal fatto che noi stamattina non siamo qui e questo incontro non si svolge e quindi la conseguenza è che non c'è nessuno a cui dare questo credito. Pace, sinceramente sono più contento che il mondo abbia cominciato a guardare le cose con gli occhi giusti piuttosto che venga attribuito, come per la verità sarebbe non soltanto cortesia fare. Non dico il merito, ma quantomeno riconoscere qual è il percorso argomentativo che sta dietro a certe acquisizioni, anche perché come ci è stato giustamente insegnato, sottolineato, se uno non conosce il percorso è difficile che arrivi dove intende arrivare. E la seconda considerazione a dieci anni di distanza che volevo fare è questa, e cioè il fatto che le asimmetrie che abbiamo studiato, il successo di questa chiave di lettura dipende anche dal fatto che, sì, i fatti sono anche sorprendenti, alcuni inaspettati, nuovi, la chiave di lettura ha mantenuto integralmente la sua capacità esplicativa. La riflessione è che ormai è un fatto acquisito che l'Unione Europea, e tutte le cose che si muovono sotto questo cappello, ha un assetto costitutivamente caratterizzato da asimmetrie. Non è un caso e non è il destino cinico e baro, è un difetto di progettazione. E quindi da questo punto di vista questa considerazione ha una serie di ricadute, alcune possono sembrare banali, vi dico quella che è la più banale e che è stata la più misconosciuta per tanto tempo, e cioè il fatto che se ci sono delle asimmetrie ci sono delle parti, l'Unione Europea è composta da parti. Ciascuna di queste parti, vorrei ricordare, perché lo dicono i trattati dell'Unione Europea, ha da giocare il suo ruolo. Nell'articolo 3 del trattato sull'Unione Europea c'è scritto che gli Stati competono fortemente tra di loro, manco competono, competono fortemente, e per cui ciascuna di queste parti è da giocare un ruolo, nell'interesse del sistema produttivo, nell'interesse del suo territorio, nell'interesse del suo popolo, nell'interesse di quella che dieci anni fa era una parola, un termine, guardato da una parte con disprezzo, e comunque è considerato una parolaccia, l'interesse nazionale. A dieci anni di distanza possiamo dire che forse non c'è più nessuna forza politica, sociale, vabbè lasciamo perdere i sindacati, che non abbia acquisito consapevolezza che quello deve essere il parametro, ma banalmente il parametro, sul quale costruire la relazione con l'Unione Europea e soprattutto con le altre parti dell'Unione Europea. Quindi per capirci, oggi affermazione come quella per cui certe scelte vengono compiute nell'interesse dell'Europa e non nell'interesse dell'Italia, non hanno più grande cittadinanza, non hanno più grande mercato, e nessuno si sognerebbe più di utilizzarle in termini propagandistici. Mi pare, dal punto di vista culturale, che è la nostra missione sociale, un ottimo risultato. Quindi, a questo punto di vista, sulla base di queste, almeno di queste, da parte mia, consapevolezze, dedichiamo una giornata a fare il punto su questi dieci anni, ma soprattutto, con lo sguardo rivolto a quello che ci aspetta, maturate queste consapevolezze, cioè che c'è una parte, c'è un modo di guardare la relazione con gli altri, la chiave di lettura che abbiamo proposto e che ha dimostrato di essere utile è quella delle asimmetrie, e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie.